Festeggiamo questo importante compleanno di Infinito che naturalmente è uno dei gioielli dell'assessorato alla cultura della regione Piemonte e ha fatto una grande strada diventando un punto di riferimento per quanto riguarda appunto il suo ambito di interesse per la città di Torino e va detto che si collega anche a un settore importantissimo dal punto di vista produttivo che è quello aerospaziale quindi noi naturalmente siamo molto contenti anche della parte culturale che Infinito fa in un settore di vitale importanza per la nostra regione.